siamo nella primavera del 1848 venezia ha proclamato la repubblica milano ha scacciato gli austriaci a vienna regna lo sconcerto quale momento migliore i liberali lombardi chiedono aiuto al re carlo alberto perché un conto è mandare via i soldati da milano un conto è sconfiggere l'impero austriaco carlo alberto accetta perché in questo modo la lombardia sarebbe poi entrata a far parte del regno sabaudo questo è il documento con cui carlo alberto si rivolge ai popoli della lombardia e di venezia per informarli che avrebbe messo a disposizione le sue armi per mandare via gli austriaci è firmato 23 marzo 1848 questo proclama questa dichiarazione di di carlo alberto farà in modo che tutti gli animi dei democratici e dei liberali di tutta la penisola si accendano di entusiasmo e infatti dal gran ducato di toscana dallo stato della chiesa dal regno delle due sicilie i sovrani mandarono delle truppe in aiuto alle truppe piemontesi e poi partirono tantissimi volontari quello che vedi è un documento che è praticamente decreta questa nascita di questo battaglione italiano della morte che è un manipolo di soldati comandati da garibaldi il quale era appena rientrato dall'america latina e come puoi leggere nel nel punto numero 8 si dice che garibaldi aveva già messo per iscritto l'impegno di comandare questo battaglione che si pone direttamente sotto gli ordini di carlo alberto quindi insomma possiamo dire che è iniziata ufficialmente la prima guerra di indipendenza combattuta non solo dai patrioti lombardi e veneti ma anche dalle truppe regolari piemontesi e da truppe e volontari provenienti da tutta italia questa ondata di entusiasmo però si raffredderà purtroppo ben presto perché carlo alberto deluderà le aspettative di tutti allora devi sapere che carlo alberto era famoso per la sua indecisione tanto è vero che nel 1847 era stata scritta su di lui una sorta di filastrocca di canzone che si intitolava proprio il re tentenna che raccontava la storia di questo sovrano che fin da bambino non sapeva mai decidersi questa satira perché di satira politica si tratta era stata scritta perché carlo alberto non si decideva a firmare il famoso statuto albertino un giorno sì un giorno no e pare addirittura che questa questa poesia che venne poi stampata e fece il giro di tutti i piemontesi velocissimamente e che fruttò anche una condanna all'autore domenico carbone servì però a spingere il re a firmare finalmente il famoso statuto albertino caro alberto però tentenna anche anche in questa occasione in che senso nel senso che invece di partire immediatamente con le truppe tagliare la strada al generale radeschi che è cacciato via da milano si stava ritirando e quindi sfruttare l'effetto a sorpresa per sconfiggerlo tentennò aspettò aspettò qualche giorno ma questi pochi giorni permisero al generale austriaco di riorganizzare le truppe di asserragliarsi all'interno di una zona chiamata il quadrilatero quadrilatero perché racchiusa tra quattro fortezze molto importanti nella città di verona di legnago di mantova e di peschiera del garta nelle battaglie successive carlo alberto fu sconfitto e le sconfitte più importanti furono a custozza e poi l'anno successivo nel 1849 ci fu la sconfitta decisiva a novara carlo alberto dopo questa sconfitta decide di abdicare a favore di suo figlio vittorio emanuele secondo il quale firmò con l'austria poi un armistizio nel marzo del 1849 tra parentesi carlo alberto andrà poi in esilio a oporto in portogallo e morirà poco dopo nel frattempo però cosa succede nel resto dell'italia abbiamo detto che c'era stato un grande entusiasmo i democratici non si fanno fermare da come vanno le battaglie con gli austriaci e prendono l'iniziativa non fidandosi del tutto dei liberali nel granducato di toscana leopordo viene cacciato e viene proclamata una repubblica la stessa cosa succede a roma dove il papa è costretto a fuggire e mazzini si metterà al governo della repubblica romana e poi c'è Venezia la quale si rifiuta di accettare l'armistizio che era stato firmato con l'impero austriaco questa resistenza dei democratici italiani fu però inutile perché gli austriaci rientrarono in italia e praticamente spazzarono via sia la repubblica di firenze e rimisero al suo posto il granduca leopoldo secondo sia Venezia dove posero un assedio che durò cinque mesi dopodiché i naziani costretti anche dalla fame e dallo scoppio di una epidemia di colera furono costretti ad arrendersi anche il papa chiese aiuto chiese aiuto alla Francia cos'era successo in Francia in Francia con la crisi economica della metà del 1800 erano ripresi i disordini e nel febbraio del 1848 i francesi costrinsero il re ad abdicare in favore di suo nipote l'assemblea nazionale però decise che fosse meglio sotto la spinta del partito repubblicano proclamare la repubblica e nelle elezioni del dicembre del 1848 venne eletto presidente della seconda repubblica francese luigi napoleone bonaparte il nipote del più famoso imperatore napoleone il papa pio nono fu proprio al presidente francese luigi napoleone che si rivolse e il le truppe francesi scesero in italia riuscirono a sconfiggere la repubblica malgrado le prime vittorie conseguite da garibaldi e nel luglio del 1849 rimisero tutte le cose a posto e il papa dopo un paio d'anni rientrò a Roma e riprese il suo posto in pratica tutti i sovrani tornarono sui loro troni ma soprattutto in italia tutti tutti quelli che avevano concesso la costituzione la ritirarono la cancellarono l'unica costituzione che rimase fu lo statuto albertino e anzi vittorio emanuele secondo decise di indire le elezioni nel alla fine del del 1849 per eleggere un nuovo parlamento tutto Grazie a tutti.